Nel frattempo andiamo a rettificare di guardare ancora una volta per a Natalie Copp non ci sono stati errori nel percorso base quindi tra i qualificati alle barrage lo ricordiamo a Natalie Copp clear round on the califat for the jump off Andiamo alla mia famiglia Mentre una sera stagliava invece musicali promesse ti amo benissimo Grazie per l'invito a dimenticare le nocce alle porte adesso Nessun errore zero, le penalità per la gara di Bernardo Halves, Riccardo Pisani